ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi parlo di un prodotto ottimo e che veramente non posso fare più a meno di utilizzarlo sto parlando di luxury confi confidence che cos'è questo lo faccio vedere nella pochette è questo aggeggino qui che vi toglie i puntini neri io ho appena fatto la pulizia nel senso ho fatto il vapore e ve lo faccio anche vedere come si utilizza però prima volevo parlarvi di alcune caratteristiche allora viene spedito in questa confezione ovviamente questa è una collaborazione io voglio essere sincera con voi è una collaborazione ma io il prodotto l'ho già utilizzato e viene in dotazione scusate di queste spugnette non so se si vedono che sono da inserire negli appositi beccucci e poi anche questo cavetto usb per ricaricare il prodotto queste sono tre testine e ogni testina ha un suo utilizzo ovviamente una è già posizionata qui e poi ci sono queste altre quindi in dotazione sono quattro testine e vi dico quali sono allora vi dico anche le testine che funzioni hanno infatti qui lo trovate anche scritto vedete non so se si legge vedete nel foglietto illustrativo vi dice quale testina è adatta per fare le vostre la vostra pulizia allora vi faccio vedere le testine non so se si vede perché con il riflesso delle luci è bianco ecco così si vede allora questa è per una pulizia profonda questa è per rassodare la pelle e questa è per esfoliare la pelle e poi invece già nel kit avete anche quella per i puntini neri che è quella che io utilizzo di più in assoluto io lo faccio di norma due volte a settimana se vi truccate fate la vostra skin care normalmente questo è una cosa che dovete assolutamente utilizzare se anche voi siete portatrici sani di puntini neri io ce l'ho li posseggo proprio li tengo stretti a me specialmente nel nella parte del naso e un po nel mento certe volte li trovo anche qui nella fronte ma è una cosa rara ma di più è il naso che li emana e il mento allora ha diverse velocità ma io di solito utilizzo la prima velocità ovviamente è una specie di risucchio che vi fa nella pelle infatti non so se si sente questo è il rumore che fa poi ci sono diverse velocità e poi invece per spegnerlo basta tenerlo premuto e si spegne vi ripeto io lo faccio due volte a settimana mi trovo bene con questo prodotto e adesso ve lo voglio far vedere sulla mia pelle dovete ben bene tirare la pelle per far sì che possa portare le parti più diciamo incavate del vostro video del vostro viso e non vi preoccupate per il rossore perché quello poi si toglierà dopo pochi minuti non è un problema io non mi posso vedere perché lo sto riprendendo con la fotocamera quindi non so però vi assicuro che toglie vi assicuro che toglie uno schifo incredibile allora ho appena fatto tutto il viso non vi preoccupate come vi ho detto poco fa per il rossore perché è una cosa normalissima perché ovviamente facendo una specie di risucchio quindi vi fa quell'effetto di rossore ma che si toglie ovviamente subito vi faccio vedere mi dispiace per chi diciamo è debole di stomaco ma vi vorrei vorrei far vedere cosa c'è all'interno c'è uno schifo totale veramente io che lo sto utilizzando due volte a settimana vi posso dire che questo è il minimo perché ovviamente essendo che ci trucchiamo spesso automaticamente anche se facciamo una pulizia profonda però quando facciamo o la doccia o il vapore come ho fatto poco fa io con la vaporiera automaticamente i pori sono belli che aperti quindi tutta la sporcizia esce e con questo prodotto veramente riuscirete a togliere tutti i puntini neri che avete sul viso questo ve lo consiglio assolutamente vi faccio anche una chicca su come io lo pulisco prendo il cotton fioc metto il disinfettante e poi entro nella testina lo pulisco direttamente e così diciamo lo disinfetto pure ed è una cosa che sinceramente gradisco assolutamente perché mi piace disinfettarlo perché cioè nel senso non mi piace soltanto lavarlo con l'acqua ma disinfettarlo direttamente allora per quanto riguarda questo prodotto io ho uno sconto che è bennardo 100 vi metto il link da cliccare così potete andare direttamente nella pagina e usufruire di questo sconto è un ottimo sconto ve lo assicuro perché è un ottimo prodotto io mi ci trovo bene lo sto facendo utilizzare anche i miei figli l'ho utilizzato due volte a settimana e vedete che questo è il minimo di quello che potete trovare perché credetemi all'inizio c'era ci siamo capiti e quindi veramente ve lo consiglio questo è tutto per quanto riguarda questo kit io mi trovo bene e se anche voi l'avete provato mettete un commentino qua sotto e ditemi la vostra esperienza perché io sinceramente mi sono trovata bene quindi ve lo consiglio al 100% usufruite del mio codice sconto così risparmiate anche dei soldini che non fa mai male e niente che dirvi di più per quanto riguarda questo video è tutto io vi saluto e vi mando un gustissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao